Maurizio Ferini, lei scusi è lo stesso di quelli della notte? Sì, il mio nome adesso lo rivelo è Massimo Delirio, io sono leader di questo partito o no che ha sede a Bellaria, è un franchising del Partito Democratico, un franchising in politica? Renzi si è modernizzato e invece nelle sezioni fa il franchising, noi in Romagna abbiamo questo franchising, il Partito si chiama o no e quindi noi adesso facciamo un notiziario sulla pagina Maurizio Ferini di Facebook e si chiama Delirio News, Massimo Delirio fa Delirio News tutti i giorni. Ma chissà che news da Delirio, ma che cosa succede? Guardi adesso siamo impegnati molto sulle coperture perché Renzi ci scarica tutto a noi, ha detto che le coperture non ci sono, dobbiamo trovarle noi di Bellaria, siamo venuti qua in questo bellissimo posto di Framura perché se le avessero il ligue le coperture, noi cerchiamo le coperture però la gente non ci dà le coperture, servono a loro. Perché se le tengono strette? Le coperture è una complicazione, o no, non lo so, mi hanno detto di dir sì o no, non lo so. C'è un partito della decisione. O no. Chissà. Non lo so. Forse. Se lo sai dilo te. Ma insomma, ma dove lo vediamo? Dove vediamo queste informazioni, queste notizie? Sono contento che mi ha fatto questa domanda perché le vediamo su Twitter, Ferrini Maurizio perché se no era già occupato, invece su… Era occupato da Maurizio Ferrini. Da un altro Maurizio Ferrini che non si sa che è un abusivo, è un vucumprà, o no. O no. Oppure sulla pagina Facebook, si vede la faccia su Facebook, Maurizio Ferrini, cliccate tutti i giorni, c'è questo notiziario. Il cittadino bisogna tenere informato, sono situazioni un domani? Soprattutto. O no. Non lo so. Bene, allora andremo a vedere su Twitter, su Facebook, su Facebook, digitate con due S credo, Facebook, non si sa, vediamo, sono situazioni. Grazie. Prego. Grazie. 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 Grazie.